Cosa? Che ti devo arreggere? Dami quello da Bebole, quello da Bebole, che ti devo dare? Guardami, che ti devo dare? Guardami però! Quello da Bebole, grazie, quello da Bebole, fate vedere le scarpe, fate vedere le scarpe, fate vedere le scarpe, fate vedere le scarpe. E fatti vedere, guardami, e guardami. Eeeh, a me dammi quello di Buffett. Che vuoi dire? Quello di Buffett. Guardami quando scegli, guardami. Mamma, mamma, voglio vedere quelle altre? Stiamo becchando le scarpe, no? Vabbè ce n'è uno? Dov'è quell'altra parte? Guarda il mio. Potenza? Uno, potenza, via! Dov'è? Dov'è? Adesso, uno, tre! Dov'è? 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 Dov'è io cosa ho fatto? Non so come ho fatto. Dov'è io cosa ho fatto? Dov'è te cosa ho fatto? Dove vai? Perchè sposti la busta? A mezzas tipo, perchè sposti la busta con una burtilla vicenda, perchiè sposti la busta. Perchè sposti la busta con una burtilla con una burra espostosa. Ciao Imma. Vuoi venire anche a me? E vieni di qua. Dov'è Imma? Imma dov'è? Imma poi quando lo vede su YouTube lo vede, no? Ah, non vuoi mettere la busta? Vieni! 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 Vieni!